Si intitola Tempi di riconoscenza, una nuova iniziativa che si svolge alla Mediateca Montanari. Ne chiediamo il contenuto di cosa si tratta dall'assessore Samuele Mascarin. È un appuntamento che nasce da un percorso, da un'iniziativa, da una proposta della Cerchia delle Lettrici di Vago Colle che il sistema bibliotecario accoglie con molta felicità e molta soddisfazione perché è una proposta che ci porta a interrogarci sui femminismi di ieri, di oggi e di domani con tre appuntamenti, il 18 di febbraio, il 24 di marzo e il 14 di aprile che ci consentiranno come comunità di poter attivare una riflessione molto orizzontale e assolutamente aperta e inclusiva su alcune tematiche che oggi probabilmente hanno bisogno di trovare nuovamente spazio e protagonismo all'interno anche del dibattito pubblico. Si tratta di tre incontri con argomenti particolari che riguardano il femminismo. Il primo appuntamento è appunto domenica 18 febbraio alle 5 e mezza qui alla Memo ci sarà Maria Nadotti che è una saggista, pensatrice e traduttrice anche della gran parte dei libri di Belux. Belux è una scrittrice, attivista, pensatrice, femminista, africana, americana che ci ha illuminato su questioni molto molto importanti oltre che attuali e estremamente urgenti. Il secondo appuntamento invece previsto per aprile ci sarà Anna Rosa Buttarelli che è anche lei redattrice, saggista e scrittrice italiana e ci parlerà di Carla Lonzi e del femminismo degli anni 70, femminismo italiano. Carla Lonzi è stata una pensatrice molto rivoluzionaria che ha portato in qualche modo l'ondata rivoluzionaria femminista dall'America all'Italia quindi è un momento storico particolarmente importante. E poi concluderemo appunto con Luisa Passerini che è una accademica, una storica, una attivista e pensatrice che ha fatto la storia anche lei con il suo modo di scrivere e di pensare qua in Italia e cercheremo con lei di tirare un po' le fila di tutto questo percorso fatto insieme. Il gruppo delle lettrici di Vago Colle, che cos'è e che cosa fa? Sì, noi stiamo, è un percorso cominciato circa un anno fa siamo un gruppo di donne che ci siamo incontrate per leggere libri a voce alta libri legati al tema delle questioni di genere e libri legati appunto al femminismo e in questo percorso molto bello e molto interessante in cui leggiamo ci confrontiamo, nascono tantissime domande, tantissimi confronti ed è davvero un'esperienza trasformativa per ognuno di noi oltre che generativa perché ci permette di guardarci intorno e guardare l'attualità con un altro punto di vista che secondo noi in questo momento storico è particolarmente importante.